Musica Ragazzi buonasera che dire sono emozionato per il momento ancora non bevo quindi sono ancora rilassato dopo sicuramente ne farò uno migliore di questo un po' più sciolto grazie di tutto e speriamo che sia una bella serata per tutti a dopo auguri ciao buonasera a dopo ci vediamo quando siamo un po' più imbranchi ciao al tri vai dove qua aspetta amore che se non mi vedi allora signor Rossella siamo di nuovo qua ti faccio vedere che questo è già il secondo per me è il primo noi siamo i new entry noi e loro siamo i new entry comunque ti volevamo dire Gabriele sei troppo forza auguri 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 alla salute alla salute è la prosta però non deve partire quello già va Gabriele allora no io me la prova mi è tizia non c'è gli auguri dovevamo prendere confezze con la telecamera auguri 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 Gabriele grazie per questa faccia che ancora deve cominciare ci vediamo alla fine della serata e finchiamo se ne passa la vera ciao Gabriele come ti senti a 40 anni io bene pure io 40 e la prosta da come sta io mi sento molto più giovane di te una trentenne auguri auguri tantissimi auguri ciao ciao allora buonasera 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 auguri a Gabriele ti è sposato una volta particento questo matrimonio è bellissimo l'importante è che ci divertiamo tutti e siamo tutti a te alla salute alla tua Gabriele auguri, ci vediamo dopo prego Gabriele auguri auguri con i tuoi 40 anni sei più giovane adesso ma ci spettano ma non ci spettano ma non ci spettano 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 grazie Gabriele per la festa un bacione grandissimo aspetta carico ma non ci spettano non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare un bacione grandissimo grazie a tutti ragazzi grazie mille beviamo sentiti quest'anno grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Gabriele che la gioia di questo giorno ti accompagni per tutta la vita auguroni sei un grande Gabriele ma ti ricordo quando stiamo a me dorme tu ma via scendi un po' scendi giro aspetta ok ok come funziona già sta funzionando tantissime auguri benvenuto tra di voi old old 40 Gabriele la prossima quanto la farai a 50 ma tra si tra si ciao ciao c'è pure l'avvocato c'è pure Enzo Gabriele Gabriele una domanda il buffet quando si apre Gabriele come sei bevuto però siete una coppia bellissima c'è del boscuandri comunque Gabriele è una coppia c'è del boscuandri due due ma nonna mia che l'anno freddo è il boscuandri 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 abbiamo dopo salve a tutti buonasera auroni Gabriele Gabriele va bene e questo è un attenzione che ti faccio andiamo nel meglio perché sei mio fratello eeeh ciao sei un grande Gabri auguri poi ti portiamo a Cicci Pistolele perché sei proprio ubriaco e per critica stenditi grazie ciao Gabriele abri giochi auguri 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 Gabriele ha portato Cicci buono ciao a Gabriele auguri Gabriele auguri tantissimi tantissimi auguri poi che ti vogliamo dire per me sei il fratello è più bello che ci sia bravo per Ciccio il compagno di una vita di una vita un messaggio alle mogli questi andate via lasciasi stare sui un bacio ciao ciao fratello tanti auguri voglio dirti che ti voglio bene buonasera questo è il mio quindicesimo video e che posso dire è ho portato Marco e è Vincenzo signor Vincenzo è un messaggio di te a me a me è solo il secondo video è il quindicesimo così secondo me sono un po' ubriato come vedrai nei miei video sono dalle nuove che ormai è sempre pieno è il mio quindicesimo per il mio organizzatore ti ho portato anche il Fasonista qui ciao... ciao buona serata ciao 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 un augurio dal fasonista di Gabriele numero uno e moglie che alloggiano qua se ne vanno a pinto e non so se mi spiego non ce lo beviamo perché la Eto Group ci ha omaggiato di questa suite grazie, grazie a Gabriele grazie auguri e di nuovo auguri auguri ciao Gabriele auguri questa bellissima cento di questi giorni un bacione non ce la beve beve la moglie beve la moglie auguri parlo se è bello parlo zuccariello tanti auguri ha perso il marito non trovo più mio marito mi ha abbandonata va bene siamo contentissimi che siamo venuti è arrivato anche il marito comunque ti voglio tanto bene sei una grandissima persona auguri Gabriele per me sei il mio zuccariello è il numero uno Gabriele auguri Gabriele auguri buon compleanno possiamo? Gabriele auguri buon compleanno auguri anche dalla più piccola già in registro? prostata come stai? ciao grazie della piena serata si eeeh va bene ci ripetiamo l'anno prossimo ma dobbiamo aspettare 50 anni abbiamo gli intrusi auguri Gabriele auguri 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 qui c'è tuo fratello il minore tu sei il maggiore sei oltre quarantenne ormai e ormai sono 30 e uscendo quindi non so più cosa dire e io sto oltre ciao Gabriele ciao ciao Gabriele ciao Gabriele allora i nostri migliori auguri per i tuoi quarant'anni e che no i che mi hai festeggerato anche altri compriati altri compriati e poi mi raccomando mantieni sempre alto la tua barriera sempre ok auguri ciao ti dice ciao ciao tanti auguri tanti auguri ciao papi ci vediamo bene ci vediamo bene ciao 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 Gabriele hai spaccato le vetrine auguri ti fongo tre anno bellissima festa Gabriele Dadegiano con furore Gabriele Gabriele aspetta Gabriele ci siamo giusti un attimo oh dacci il via non c'è il via adesso potete parlare possiamo andare oh siamo fra Gabriele noi siamo con il rum la signora l'ho rubata un attimo perché l'ha fatta di 40 anni non vorrei sei quasi pronto può piangere pure tu no non è vero il venturino non è vero il venturino auguri auguri noi pensavamo che fossero 50 sfumature rosso e nero ma in realtà sono 40 sfumature di Gabriele ciao Gabriele ciao Gabriele auguri però non è capace di ballare Cicino voleva ballare qua e si è fermato ciao tanti auguri bellissimo ti è fermato non è trovato non è trovato non è bella sopra i tali va bene adesso ci daremo un pulpo auguri Gabriele ciao ciao ragazzi buonasera non ho avuto il tempo di ringraziare tutti ma diciamo che nemmeno adesso c'è il tempo vero? forse ai 40 anni ringrazio tutti del pensiero che hanno avuto e la cosa più importante è che siete qua sono colmo di gioia buona serata e buon proseguimento di sera ciao a tutti ciao ciao grazie 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 sono due sfumature che sono voi è la quinta volta che siamo fatte sono due sfumature auguri Gabriele grazie auguri la moglie di Gabriele ciao 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 ciao